Ciao a tutti ragazzi, io sono Tony e questo è Tony's Mind. Sto testando ormai da qualche giorno iPhone XR e ne ho parlato un video su WeTech, la community tech che ho fondato e che vi porta un videotech al giorno. Vi lascio qui il link per iscrivervi. Non perdetela, in quel video valutavo quali fossero le 5 cose che bisogna sapere su iPhone XR. Ho fatto quel video perché ci sono degli aspetti dello smartphone che bisogna conoscere e che... Vi lascio quindi subito a quel video. ...e che bisogna provare prima di saltare a conclusioni affrettate. In questo momento sto valutando quale smartphone devo tenere tra il mio vecchio ma ancora molto competitivo iPhone X e il nuovo ma non top di gamma iPhone XR. Sicuramente dobbiamo iniziare a parlare del display. Diciamo che ho deciso di non caricare questo video su Tony's Mind ma di caricarlo direttamente su WeTech. Come sapete WeTech è la community tech con un video al giorno che ho fondato circa un mesetto fa. Ho deciso di non caricare questo video su Tony's Mind ma di lasciarlo su WeTech come video della domenica. Poiché su Tony's Mind non parleremo comunque solo di tecnologia ma di tanti altri argomenti, questo argomento prettamente tecnologico preferisco caricarlo su WeTech. Quindi andate subito su WeTech a iscrivervi per vedere questo video per intero. Nel frattempo qui su Tony's Mind potremo vedere dei retroscena di video tecnologici, dei vlog. Ho già un bel po' di roba pronta, devo solo mettermi un attimo al computer e fare un po' di montaggio. Ma vi assicuro che i contenuti non mancheranno. Vi prego di supportarmi in questa mia iniziativa andandovi a iscrivervi subito nell'altro canale e di mettere un bel like al video se siete d'accordo. Io sono Tony e noi ci vediamo molto presto.